Tassa di soggiorno turistico ad aggrigento, lettera aperta, del Consorzio Turistico Valle dei Templi rivolta ad Amministrazione e Consiglio Comunale. In seguito alla riunione congiunta svoltarsi al Comune che, visto i componenti delle commissioni consigliari competenti discutere sulla proposta di delibera che prevede l'introduzione in città del nuovo tributo, il Presidente del Consorzio Paolo Pullara, nella missiva, chiede al Sindaco Marco Zambuto di indire l'annunciato tavolo di concertazione propedeutico, scrive Pullara, alla definitiva soluzione del problema emerso sulla tassa di soggiorno e che ciò si legge ancora nella lettera, possa avvenire quanto prima per non disperdere in vano energie che le imprese devono destinare allo sviluppo del settore piuttosto che ad inutile ed improduttive contese che producono esclusivamente disaffezione dei pochi folli operatori turistici, conclude Pullara, che ancora testardamente investono in questa città credendo in una rinascita della stessa. Grazie. Grazie.